Prima lo sciame sismico con scosse di bassissima intensità poi nel cuore della notte, la terra dei Campi Flegrei ha vibrato più forte. Alle 22.54 con un terremoto di magnitudo 2.7, epicentro sul fianco della solfatara che affaccia su Pisciarelli. La profondità è stata di circa 2 chilometri, poi uno di magnitudo 2.3 nell'area dell'Accademia Aeronautica. Si tratta di terremoti avvertiti distintamente dalla popolazione, si tratta di episodi che rientrano nella norma di un sistema idrotermale attivo, come rimarca Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Questo tipo di eventi ancora una volta ai Campi Flegrei si generano perché è in atto una crisi bradicismica, perché c'è un sollevamento che continua ad aumentare. Tuttavia negli ultimi due mesi qualcosa è cambiato, c'è stato un incremento della sismicità, in particolare microsismi, con 248 terremoti ad ottobre e 225 a novembre, i più alti dal 2005, quando è ripreso il bradicismo. Da settembre 2020 siamo passati da una velocità di sollevamento che era di circa 6 mm al mese, adesso siamo a un centimetro al mese. È comunque un episodio sismico che è completamente contestualizzabile nell'attuale fase bradicismica, cioè ce li aspettiamo questi eventi purtroppo in questa fase bradicismica.